Il treno suburbano S8-10-8-1-8, di Trenord, proveniente da Milano Centrale, è diretto all'Ecco, delle ore 0 e 05, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Il treno suburbano S11-25-08-7, di Trenitalia, proveniente da Chiasso, è diretto a Milano Centrale, delle ore 0 e 08, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Milano Greco Pirelli. Il treno suburbano S11-25-09-2, di Trenord, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Chiasso, delle ore 0 e 08, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno suburbano S8-23-30-2, di Trenord, proveniente da Milano a Porta Garibaldi, è diretto a Saronno, delle ore 05 e 08, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Cesano Groane. Il treno suburbano S8-10-8-2-0, di Trenord, proveniente da Milano a Porta Garibaldi, è diretto all'Ecco, delle ore 05 e 08, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni escluso. Bercurago San Girolamo. Il treno regionale, 10-7-5-1, di Trenord, proveniente da Milano a Porta Garibaldi, è diretto a Bergamo, via Carnate, delle ore 05 e 043, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Monza, Arcore, Carnate Usmate, Paderno Robbiate, Calusco, Terno, Ponte San Pietro. Il treno regionale, 10-7-5-0, di Trenord, proveniente da Bergamo, è diretto a Milano a Porta Garibaldi, delle ore 05 e 046, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Milano Greco Pirelli. Il treno suburbano S11-25-016, di Trenord, proveniente da Milano a Porta Garibaldi, è diretto a Chiasso, delle ore 05 e 050, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 51-23, di Trenord, proveniente da Milano a Porta Garibaldi, è diretto all'Ecco, delle ore 06, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno suburbano S8-10-8-2-1, di Trenord, proveniente da Lecco, è diretto a Milano a Porta Garibaldi, delle ore 06 e 04, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Milano Greco Pirelli. Il treno regionale, 10-6-1-2, di Trenord, delle ore 06 e 05, proveniente da Brescia, è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno suburbano S11-25-017, di Trenord, proveniente da Chiasso, è diretto a Milano a Porta Garibaldi, delle ore 06 e 08, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Milano Greco Pirelli. Il treno suburbano S9-5385, di Trenord, proveniente da Seregno, è diretto al Bairate, delle ore 06 e 023, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 25-51, di Trenord, proveniente da Colico, è diretto a Milano Centrale, delle ore 06 e 029, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale, 18-54, di Trenord, proveniente da Milano a Porta Garibaldi, è diretto a Chiavenna, delle ore 06 e 035, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Monza, Carnate-Usmate, Lecco, Abbadi e Lariana, Mandello dell'Ario, Olcio, Lierna, Fiume Latte, Barennesino, Bellano, Tartavalle Terme, Dervio, Dorio, Piona, Colico, Novate Mezzola. Il treno regionale, 10-6-1-5, di Trenord, delle ore 06 e 046, per Brescia, è in partenza dal binario 5. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 51-28, di Trenord, proveniente da Lecco, è diretto a Milano Porta Garibaldi, via Molteno, delle ore 07 e 033, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Milano Greco-Pirelli. Il treno suburbano S9, 24-1-0-2, di Trenord, proveniente da Albairate, è diretto a Saronno, delle ore 07 e 037, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Cesano-Groane. Il treno suburbano S8, 10-8-2-7, di Trenord, proveniente da Lecco, è diretto a Milano Porta Garibaldi, delle ore 07 e 025, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Milano Greco-Pirelli. Il treno suburbano S9, 23-3-2-9, di Trenord, proveniente da Saronno, è diretto a Milano Porta Garibaldi, delle ore 23 e 025, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Milano Greco-Pirelli. Attenzione! Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno in transito al binario 4, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno in transito al binario 5, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Reggio Express, 25-2-8-8, di Tilo, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Bellinzona, delle ore 23 e 20, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Monza, Lissone-Mogio, Daesio, Seregno, Camnago-Lentate, Cantu-Cermenate, Como-San Giovanni, Chiasso. Attenzione! Il treno regionale, 33-2-8-8, di Trenord, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Chiasso, delle ore 0 e 50, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Monza, Lissone-Mogio, Daesio, Seregno, Camnago-Lentate, Carimate, Cantu-Cermenate, Cucciago.